Bene bene bene, rieccoci con un nuovo video analitico di Riot Forge, e ringraziamola per bene perché sta rendendo interessanti gli approfondimenti sulla lore di alcuni personaggi. A sto giro la storia che spiegherò riguarderà Convergence, un titolo che era già stato annunciato da molto tempo ma che è stato vittima di diversi delay sulla pubblicazione. Per essere chiari è stato vittima di una forma di malattia molto grave e fastidiosa che sta contagiando tutta l'azienda, vale a dire la ritarda... Allora, cosa ne penso della trama di questo gioco? Innanzitutto me la sono gustata non poco, l'ho trovata interessante e curiosa, come spesso accade quando si parla di viaggi nel tempo, ironicamente meno intrinseca di quella di Mage Seeker, infatti ritengo sia un qualcosa di più assestante che di grosso impatto generale. E poi è stata molto più breve, dico solo che mi sono pappato tutto il gioco in poco più di otto ore. E poi mi sono piaciuti tanto anche i piccoli easter egg sparsi per il gioco, tipo la grande statua di Gianna in piazza, le lettere che fanno riferimento ai dieci demoni, ad Azir, a Urgot e così via, e poi la nota super carina di Zeri che pare sia diventata un'amicona di Ecco e abbia persino salvato Blitzcrank dall'essere smantellato da alcuni rovistatori del Samp. Ok, allora arrivate a questo punto, se siete pronti direi di cianciare le bande e partire subito con l'analisi di Convergence. Iniziamo subito con la premessa. Allora, temporalmente parlando, questa storia potrebbe essere ambientata nel presente. Ogni cosa era al suo posto, nessun evento passato particolare, tutto seguiva il filo lineare della narrativa attuale. Non dico sia una cosa certa perché c'è un personaggio che mi mette un attimo in dubbio, tra poco ci arriviamo. Come anticipato però, questa storia riguarda quasi esclusivamente il protagonista, Ecco, il quale ha a che fare principalmente con l'immagine di se stesso in un'epoca diversa. Insomma, capiamo che qui Riot si è evoluta pesantemente ispirare al multiverso Marvel o alla saga degli androidi di Dragon Ball. Ma so dettagli. Ma torniamo alla trama, che inizia subito con Ecco che assiste ad un'esplosione di una grossa torre che chiamano la Guglia, nonché struttura appartenente ai Poindestre, una delle famiglie di baroni chimici più ricca di Zone, introdotta in questo gioco, che avrà un ruolo importante in seguito. Nel caos, Ecco aveva perso il suo cronodisco e nel rintracciarlo si imbatte in Scary Janet, una tipa con un'armatura potenziata da una fonte di energia che Ecco non aveva mai visto prima, vale a dire cristalli Hextech di colore giallo. Ecco fa rientro nel suo nascondiglio, dove all'interno vediamo alcuni dei suoi amici. Rangs, che si occupa per lo più di stili di combattimento, Aximander, che è tipo il notaio della squadra e prende appunti su ciò che accade a Zone, Eli, che ha stabilito un negozio di tessuti nel mercato centrale, Red, che da quanto ho capito penso sia la sua migliore amica, e infine Lem, che come vi ho anticipato prima è il personaggio che mi mette in dubbio sullo svolgimento temporale. Sì, perché dovete sapere che questo ragazzo è forse l'unico della banda che è stato portato su Convergence dalla carta di Legends of Runeterra, il rovistatore del Samp. Qui ritengo che Convergence possa anche avvenire qualche anno prima del presente, perché il povero Lem, che compare nel muro della memoria nella Cinematic Seconds del rilascio di Echo, era stato ucciso da un nobile di Piltover. Nonostante ciò, non ho ancora trovato una data precisa riguardante questo evento, il che mi può far pensare che non sia ancora accaduto, e ciò riconfermerebbe Convergence come un avvenimento presente. Se così fosse, allora si spera che Echo possa salvare il povero Lem dal suo tragico destino. Comunque, andiamo avanti con la trama. Con sorpresa scopriamo che a Zone si è stabilito anche Corin Revek, il famosissimo padre di Orianna, del quale non avevamo mai visto le sembianze e che da anni speravamo finalmente che apparisse in qualche storia nuova, grazie Riot Forge. Qui ci svela che, dopo aver speso tutto per salvare sua figlia, la quale poi è andata per la sua strada, Corin si è spostato lì sotto per poter accumulare fortuna vendendo giocattoli meccanici, in modo tale da poter tornare a Piltover e mettersi alla ricerca di Orianna. Curioso perché Orianna, prima di andarsene, aveva costruito per suo padre una vagonata di questi prodotti per permettergli di recuperare tutte le sue spese. Quindi evidentemente non bastavano, oppure si è messo a venderli a Zone perché magari avrebbero riscosso più successo, visto che i mercati zauniti sono soliti essere più movimentati e meno pretenziosi di quelli piltovini. Comunque, tramite la missione di Corin di recuperare per lui alcuni giocattoli smarriti, ci viene introdotta per la prima volta la banda degli Inks, una delle tante gang zaunite che però veste i colori e venera la figura criminale di Jinks. Anche se sono più dei semplici teppistelli piuttosto che dei terroristi. Ecco prosegue per la sua strada fino al suo appartamento, ma subito si incrocia con una figura incappucciata che poi si scopre come l'ecco del futuro, venuto nel passato per indagare sul collasso della guglia. Per spiegarsi si dà un appuntamento alla centrale elettrica Wotlick, un tempo ospite di vari reattori Chemtech per fornire energia, chiusa da tempo dopo un disastro chimico. Nel tragitto Ecco si scontra con Veil poi in destre, che non è altro che una dei gemelli della famiglia che vivono di furti nelle varie feste di Piltover. Lì si viene a scoprire dell'effettivo termine dei cristalli gialli, i Sintixi. Poco dopo l'ecco del futuro ci spiega che questi cristalli furono creati durante l'innovazione del clan Ferros. Siccome i cristalli Hextech puri erano considerati molto rari e costosi, la famiglia di Camille si reinventò con lo studio di cristalli Hextech sintetici. Per farli si erano messi in affari con il clan Poindestre di Zone per la loro produzione, una cosa che spinse Poindestre a produrne una loro variante personale che chiamarono Sintixi, un cristallo con la stessa potenza di quelli Hextech, ma molto più instabile della Chemtech, tanto che anche una piccola quantità causerebbe un'esplosione di grosso impatto. Quando i Ferros sono venuti a sapere di questo sotterfugio, hanno provato a farli chiudere, ma i Poindestre avevano già preparato un loro arsenale. Dopo l'esplosione della Guglia, i Sintixi sono stati scagliati in giro per Zone. L'ecco del futuro rivela poi che questi cristalli, nel suo tempo, saranno causa di enormi sofferenze, ed è venuto appunto nel passato per raccoglierli tutti e impedire che ciò avvenga. Prima di lasciare la centrale, Ecco ha un confronto con Sarkon, il fratello maggiore dei Poindestre, nonché quello che dirige tutto l'affare dei Sintixi. In seguito, Ecco del futuro informa se stesso di aver localizzato altri cristalli nelle profondità del Samp, il livello di Zone più tossico e pericoloso. Un po' tipo il Platino su League of Legends, insomma. In questa parte, Ecco affronta l'altro gemello, Drake, che peraltro lo stava seguendo. E nel sconfiggerlo riesce a recuperare alcuni Sintixi. Dopo aver preso l'ultimo cristallo, però, nel viaggio di ritorno fu interrotto bruscamente dalla furia di Zone, Warwick, con il quale ha un lungo inseguimento e infine uno scontro che riesce a malapena vincere. Una volta al sicuro, Ecco interroga il suo io del futuro. A quel punto, lui decide di mostrargli la verità, utilizzando il suo dispositivo per proiettarlo direttamente nel suo tempo. Lì, il giovane Ecco si trova davanti a una Zone completamente diversa, devastata per lo più dal grigio, che finora era sempre stata una nebbia tossica, ma moderata. Viene a sapere da una guardia che l'aria era diventata insostenibile perché Piltover aveva incrementato il suo scarico di rifiuti su Zone, dopo che il clan Ferros era venuto a sapere dell'affare dei Poni Destre, il che avrebbe condotto i due clan a preparare una guerra armata di Hextec in Tixie. Ecco poi scopre la ragione principale per cui il suo io del futuro era tornato indietro. I suoi genitori, Wyatt ed Inna, stavano per lasciare la città, una cosa che Ecco del futuro non poteva accettare. Il giovane Ecco tenta di persuaderli in più modi, ma eventualmente si convince che lasciarli andare è l'idea migliore, e poi ritorna nel presente. Con l'intenzione di cercare un po' d'aria fresca per riflettere, Ecco riceve l'invito da Aximander di andare ai giardini sospesi della baronessa chimica, Corina Verasa, nota agli Zauniti come una delle baronesse più gentili, sebbene ignorino che sia una delle affariste più losche della nazione. Quando Ecco giunge nei giardini, scopre però che Zarkon Poni Destre aveva un accordo con la baronessa riguardante i Sintixi, e a quel punto si mette a investigare. Scopre con sommo stupore che Corina è in combutta sia con Ipo in destre che con il clan Ferros, dopo aver visto diverse guardie nei suoi giardini e il loro capitano interrogare la baronessa sugli esperimenti con i Sintixi. E poi, inaspettatamente, Ecco intravede la sua amica Red. Dopo averla seguita fino in cima, la trova con alcuni membri degli Inks, e scopre che sta frequentando un ragazzo di nome Chad, del quale Ecco non si fida, ma comunque cerca di rispettare la scelta della sua amica. Si prepara ad incontrarsi con Ecco del futuro, quando Ecco che sul tetto della struttura viene fermato da niente meno che Camille, che era riuscito a rintracciarlo a causa del cristallo Hextech all'interno del suo motore Z. Finora Camille l'aveva sempre lasciato stare, in quanto lo riteneva solo un fastidio, ma, dati i suoi recenti interventi nelle loro operazioni, era stata inviata dai Ferros per arrestarlo. Fortunatamente Ecco riesce a reggere il confronto fino all'arrivo del futuro se stesso, da cui Camille apprende di avere l'obiettivo in comune di cercare Sintixi. Camille dunque propone ai due Ecco di collaborare, e insieme intercettano il prossimo transito di Sintixi nella Catenomobile, una specie di treno trainato da grosse catene che attraversa la città di Zone tramite gallerie segrete. Viene sfruttata dai gemelli poi in destre per spostare tutto ciò che rubano, e anche per gli affari di famiglia. Una volta nel treno, Ecco riesce a confrontare e anche a sconfiggere i due gemelli poi in destre, e in seguito viene a sapere dal futuro se stesso del suo vero piano. L'Ecco adulto vuole accumulare tutti i Sintixi per fare una gigantesca bomba da far detonare nel punto di intermezzo tra Piltover e Zone, in modo tale da far saltare entrambe le fabbriche di Sintixi e Dextech e prevenire la guerra tra i Ferros e poi in destre. L'Ecco giovane torna subito in città, deciso a fermarlo, e puntualmente viene a sapere da Corin che un gruppo di Inks stava spostando dei prodotti sospetti al teatro Fenlocks, una struttura che fu costruita tre generazioni fa dall'architetto Calandra poi in destre, battezzata in onore del dottor e il signor Fenlocks, suoi committenti. Purtroppo chiuso in seguito per scarsezza di interessi, ora rifugio degli Inks. Al suo interno, Ecco, trova la sua amica Red, e viene invitato ad assistere ad uno speciale spettacolo che Chad e la sua gang stavano per esibire. Ecco rimane, ma non si aspettava quello che sarebbe succeduto, perché il teatro improvvisamente si sbantella e si suddivide in tante piccole piattaforme trainate da grossi palloni e motori, trasformandosi nel teatro fluttuante degli Inks. Ecco viene a sapere che questo spettacolo era stato creato per attirare l'attenzione del loro idolo, Jinx, che immediatamente si palesa davanti a loro, anche lei con armi sintixi equipaggiate, e viene lodata da tutti i presenti. Tuttavia, essendo Jinx, inizia subito a far saltare in aria tutto e tutti, scatenando il caos. Dopo aver visto Red mollare Chad per la sua idea folle, Ecco si lancia all'inseguimento per impedire il massacro. Nello scontro, Jinx gli rivela di aver ricevuto armi sintixi dai gemelli con lo scopo di fungere da distrazione mentre loro svaliggiavano una tenuta, anche se lei ha rifiutato e rubato le armi lo stesso. Jinx stava per sopraffare Ecco, ma fortunatamente Camille lo raggiunge in tempo e riesce a fermarla, sebbene Jinx sia comunque riuscita a darsela a gambe. Per ringraziarla, Ecco invita Camille nel rifugio nel mentre pensano a come trovare l'Ecco del futuro, al che Camille riesce a scoprire una parete frantumata che nascondeva una stanza segreta. Lì scoprirono il nascondiglio di Ecco Futuro, che conteneva gli appunti sui suoi diversi tentativi di fermare la guerra. Poi finalmente scoprono che la prossima mossa dell'Ecco Futuro si sarebbe svolta alla fiera estiva August. È un luogo che è stato fondato dieci anni prima dall'imprenditore Augustus Browning con l'idea di attirare turisti da tutta Runeterra. Pur restando attiva per diverse edizioni, la fiera comunque andò in malora e con nessuno che si preoccupava più di mantenerla, alla fine, chiuse. Da allora i terreni sono stati acquistati da dei baroni chimici e la struttura è prossima alla demolizione. Ecco poi realizza il luogo in cui il suo futuro Io nascondeva la bomba di Sintixi, la grande torre dell'orologio che segna il punto ideale tra Piltover e Zone. Nel dirigersi lì viene fermato nuovamente da Zarkon, ma stavolta il barone chimico viene brutalmente massacrato da Warwick che subito si gira verso Ecco e lo insegue fino al salvataggio di Camille che lo porta direttamente alla torre. In cima si trovano davanti a una barriera del tempo creata dall'Ecco futuro, una barriera che teneva alla larga chiunque tranne se stesso, che riuscì a passare grazie al suo motore Z. Poi Ecco giovane raggiunge Ecco adulto e subito subentra un altro scontro che volge a favore dell'Ecco presente ma sfortunatamente causa una frattura temporale. Dopo l'ennesimo discorso, finalmente riesce a far ragionare la sua controparte sul fatto che esiste un altro modo per impedire la guerra. Così Ecco futuro dice ad Ecco passato di unire i loro dispositivi e iniziare a riavvolgere il tempo per chiudere la spaccatura. E nel farlo, l'Ecco futuro ne approfitta per portare con sé la bomba di Sintixi e sigillare il portale dall'altra parte. Consapevole della nobiltà di tale sacrificio, l'Ecco presente lo lascia andare. Infine Camille lo raggiunge informandolo che il suo clan ha arrestato tutti i membri della famiglia poi in destre e messo fine alla loro produzione di Sintixi. Nel mentre l'Ecco futuro cammina attraverso la dimensione temporale dove al suo interno riesce a intravedere i diversi universi e le linee temporali alternative di Runeterra come l'universo Star Guardian, l'universo Project e perfino Arkane. Attenzione, questo non significa che Arkane sia un universo totalmente a sé. Come ho detto, potrebbe indicare la linea temporale. Da quel che sappiamo, la trama della serie TV è presa da quella canon con alcune modifiche. Quindi tranquilli, non allarmiamoci troppo presto. Io spero solo che non sia un mondo alternativo perché altrimenti bestemmio pure il soffitto di casa mia. E che cazzo. Ad ogni modo, alla fine l'Ecco futuro trova la linea temporale in cui i suoi genitori sono rimasti a Zone e prima che il portale si chiuda, sceglie di entrarci. Ciò nonostante, riesce comunque a lasciare un messaggio per il suo io del presente, ovviamente scusandosi per ciò che ha commesso e augurandogli di rendere il mondo in cui vive un posto migliore. E poi il gioco si conclude con Ecco che invita la sua amica Red a casa sua e comincia a raccontarle di come ha incontrato se stesso dal futuro. Hey yo! Sai che se lasci like al video e ti iscrivi puoi aiutare il canale a crescere? Anche le donazioni sono d'aiuto quindi se vuoi contribuire ti lascio il link in descrizione. Sappi anche che streamo anche su Twitch quindi se hai voglia di chiacchierare o vedermi tiltare su League of Legends puoi trovarmi lì. Grazie a tutti.